16 ricoverati per lesioni alle mani e agli occhi e a Caivano un 16enne è stato colpito da un proiettile vagante. E' questo il bilancio di una notte di festa e di follia. Capodanno di sangue a Napoli e provincia per i botti nella notte di San Silvestro. Cresce purtroppo il numero dei minori coinvolti e finiti in ospedale per le conseguenze di fuochi artificiali e petardi. L'episodio più grave è avvenuto al Parco Verde di Caivano dove un minore è stato colpito al volto da un proiettile di pistola mentre era affacciato al balcone. Il colpo lo ha solo sfiorato e questo evitato che il dramma si trasformasse in tragedia. Tra gli ospedali più interessati dai ferimenti ci sono il vecchio Pellegrini con ben nove accessi al reparto chirurgia della mano. Ad un 77enne è scoppiato un petardo mentre lo lanciava, circostanza che ha determinato l'amputazione apicale delle dita. Un uomo trasferito da caserta ha perso l'occhio destro e diversi sono stati anche i traumi acustici riscontrati. Feriti anche al pronto soccorso del Cardarelli all'ospedale San Paolo dove si è intervenuti per un corpo estraneo in un occhio e lessioni ad una mano per un diciottenne. Ancora tutti da quantificare invece i danni alle cose. Numerose le auto andate in fiamme e non pochi gli incendi nelle case. L'episodio più grave si è verificato in una casa al primo piano di un palazzo di San Pietro a Patierno. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia Stella.